Infine, il Libra Maldi propone alcune applicazioni tecnologiche dell'effetto Doppler. La prima è il funzionamento dei sensori di movimento, che emettono onde radio che vengono riflesse dal corpo in movimento. Se la persona si avvicina al sensore, l'onda riflessa ha una frequenza maggiore dell'onda incidente, come si vede anche dal disegno perché la lunghezza d'onda dell'onda incidente è più lunga, invece la lunghezza d'onda dell'onda riflessa dalla persona, proprio perché la persona si muove verso il sensore, questa lunghezza d'onda è più corta. Il sensore ha un rivelatore che misura la frequenza dell'onda ricevuta, la confronta con la frequenza dell'onda emessa e deduce che la persona è in avvicinamento, perché il sensore misura una frequenza in ricezione superiore alla frequenza d'emissione. Quindi il sensore rileva l'onda riflessa e ne analizza la frequenza e se vede che l'onda riflessa ha una frequenza maggiore attiva l'apertura della porta, per esempio, perché una persona si sta avvicinando alla porta. Se invece la frequenza riflessa dalla persona è minore della frequenza emessa dall'emettitore, allora significa che la persona si sta allontanando e quindi il sensore di movimento non comanda alla porta di aprirsi. Se misura una frequenza ricevuta uguale a quella emessa, vuol dire che la persona sta ferma e di nuovo non fa aprire la porta. Una cosa simile avviene negli autovelox, confrontando la frequenza dell'onda emessa e analizzando la frequenza dell'onda riflessa indietro, l'autovelox calcola la velocità della macchina. In pratica l'autovelox conosce la frequenza d'emissione, misura la frequenza ricevuta di riflesso e con la formula inversa calcola la velocità dell'automobile. Se poi l'autovelox è montato su una macchina della pulizia, combina le due velocità e calcola la velocità dell'automobile che riflette indietro le onde. In questo caso la formula da utilizzare è questa, cioè la formula che combina entrambi i casi, perché sono in movimento sia la macchina della pulizia che la macchina di cui va controllata la velocità. L'incognita è la velocità della macchina, mentre la velocità della macchina della pulizia sarebbe la velocità dell'osservatore è nota. Come anche sono note la frequenza emessa e la frequenza ricevuta dall'autovelox e naturalmente la velocità del suono in aria. Infine Libra Maldi riporta anche la tecnologia dell'eco-doppler che permette di misurare la velocità del sangue nelle vene e nelle arterie.